Bene ragazzi, io sono pronto, vediamo un pochettino di che si tratta. Ok, parte aggressivo, ah ok, era soltanto un incipit. A quanto mi è perso di capire è la torta di braccio di ferro ed MMA, infatti si vede dal regolamento, si chiama X-Arm. E come si vince, non so se è per pin, come si dice, oppure per combattimento, come in MMA, no, KO, non so. Ah ecco, le regole sono ok, o come nel braccio di ferro, ah e c'è anche knockout sotto missione. Quindi insomma è proprio il mashup definitivo, comunque è fighissimo. C'hanno le protezioni naturalmente, paradenti e pronti, si inizia. Colpio a manetta e niente, questa strategia ha funzionato, l'ha demolito immediatamente. Ragazzi ma vi immaginate come cambia la tattica in gioco, cioè si apre un mondo, si apre un mondo. Guardate, no, il tizio di colore è un grandissimo. C'è, peffero perale. Comunque è davvero difficile, perché è molto a distanza ravvicinata e noto che giustamente quasi tutti vanno con pugni e pugni. Ecco, manco la bocca dovevo aprire, subito ginocchiate a morire. Ok. Però la maggior parte giustamente vanno col pugno. Sta ragazza prova a tirare e ci siamo. Uh, la leva sul tavolo ragazzi. Attenzione, nuove frontiere con schiacciamento di pelotas a quanto è salito, grandissimo. Perché è strano riuscire a capire qual è la tattica migliore da adottare in queste circostanze. Si parla, le mani sono legate, quindi ricordano molto, no, nei film, no, il braccio legato col coltello. Uh, ha provato un calcio alto. E comunque è veramente rissa, ragazzi, perché è molto molto da vicino e ti costringe a colpire. Qui ci sono gli allenamenti col casco, ti costringe a colpire a distanza molto ravvicinata. Il tizio blu ha una buona tecnica, ha molto coperto e poi ha fatto la magia sul tavolo. Ah, vedete, gli allenamenti, no, vabbè. C'è la roba seria, ragazzi, con tanto di coach, di allenamenti, di tecniche, strategie, bellissimo. È davvero molto affascinante, vedete come si protegge la testa sulla mano e poi partono le acrobazie. Immagino già i kaitengheri sul tavolo, ve ne immaginate? Ditemi che quello era un allenamento specifico, vi prego, ne ho bisogno. Bellissimo, con la mano legata. Beh, sportività, sportività. E comunque, ragazzi, veramente deve essere una sfida molto molto tosta, molto molto difficile, se ci pensate, perché la distanza così vicina implica un sacco di pugni a non finire. E quindi nulla. È tutto qui, ragazzi. Che dire, il video mi è piaciuto, mi ha lasciato un pochettino spiazzato, perché ero molto concentrato nel cercare di capire quale potessero essere le strategie, le tattiche migliori da adottare. Fatemi sapere, sono veramente curioso di sapere che cosa fareste voi in quella circostanza. Cioè, siete legati con un braccio, siete costretti a combattere, potete vincere sia giocando nel braccio di ferro e sia colpendo. Ragazzi, si crea un mondo enorme di possibilità, di tattiche strategie. Insomma, fatemi sapere voi che cosa fareste e sarei curioso di vedere un Devon Larrat, un Denis Ciplenkov, eccetera, cimentarsi in questa disciplina, ma vincerebbero immediatamente, perché sono arm wrestler di fama mondiale e appena inizia magari si prendono un pugno, ma immediatamente sbam, vi spaccano nel braccio. Quindi è molto molto interessante, mi è piaciuto. Se avete altre informazioni, link da condividere per approfondire questa disciplina, scrivete tutto sotto e rendiamo appunto questo video una sorta di ritrovo per poter approfondire questa disciplina che mi ha colpito, ragazzi. Grazie a tutti.